...punti ben definiti, in modo da favorire la discussione e il contributo dei compagni, quindi è probabile che fino alla celebrazione del congresso non si possa mantenere l'impegno settimanale. Diciamo, nel gruppo nostro, nello collettivo di formazione nazista, solo io sto nel partito, per cui è un problema mio, non di altri compagni, quindi vediamo di risolverlo, poi alla sezione mia è un problema mio con risolvere di filo da mio, non può rigadere sulla testa degli altri compagni. E come che sia, ora vedremo bene come organizzarci, muoverci in questo ottobre, come che sia, credo che sia utile che noi stendiamo un pezzo di carta, un manifesto, un manifestino, insomma, che serva a dire che c'è questa iniziativa, nel senso che questa iniziativa c'è. A me sembra che vada ribadito, prima di tutto, il punto fondamentale, che questa non è un'iniziativa del Partito dei Comunizi italiani, questa è un'iniziativa ospitata in una sezione del partito, però che si rivolge a una serie di compagni, qui appunto, in maggioranza non sono iscritti al partito di questo punto, a una serie di compagni interessati alla tematica. E la tematica qual è? La tematica, e questo bisogna riuscire a dirlo in un pezzo di carta, la tematica in fine noti è questa. Noi stiamo vivendo in un periodo angosciatissimo, in cui succedono cose assolutamente mostruose e apparentemente prive di senso, e Marx queste cose ci offre la chiama per capirle. E capirle non è un fatto zioso, ma è la condizione prima per cambiarle. E' molto periste e bello andare a Berlino, alla Humboldt University, vedere come prima cosa la frase di Marx, i filosofi hanno finora interpretato diversamente il mondo, ora il problema è cambiarlo. Che è una frase molto importante perché non contrappone l'interpretare al cambiare, non contrappone la teoria alla politica, ma fa del capire la condizione per cambiare. E quello che noi credo nel pezzo di carta dovremmo riuscire a spiegare è che noi proponiamo, riproponiamo certe pagine di Marx esattamente perché ci aiutano a trovare quel paio di occhiali che è necessario per districarci nella patassa terrificante attuale per cambiarla. e ovviamente io credo che quando stenderemo questo guardino avremo presente il fatto che il nostro, come dire, il nostro ideale pubblico di riferimento non è fatto di strumenti universitari né di docenti universitari ma è fatto da comune gente, da lavoratori, speriamo, o da giovani lavoratori e quindi da persone che non sono addestrate né allo studio né hanno il gusto dello studio. Quindi il volantino dovrà essere molto concreto molto riuscire a far vedere molto bene il collegamento tra l'esperienza drammatica quotidiana la necessità di cambiarla e di avere gli strumenti per cambiarla. Questo ovviamente accendo poi i compagni intervengono sul punto che riescono meglio noi come procediamo nel nostro lavoro? Ecco, io ho portato il volume delle opere di Marx ed Engels le opere complete da cui traiamo il materiale solo in parte è tradotto in italiano e nella magnifica biblioteca tua sicuramente c'è quegli ultimi volumi degli Etorri Uniti in cui alcune delle cose ci stanno però in gran parte non è pubblicato. Allora io ho fatto la traduzione di alcune pagine la traduzione schematica che è contemporaneamente messa a fuoco confronto, commento in modo da avere un testo quello mio che non solo presenti alcuni temi del pensiero di Marx ma che già cominci a impostarli in un quadro con punti di riferimento per esempio è fondamentale tenere presente il fatto che come dire Marx non si inventa nulla che non si capisce nulla di Marx senza la tradizione economica a cui uno fa riferimento cioè questo l'ha sottolineato perché? perché ovviamente un lavoro anche un lavoro teorico è concreto si ha collegamenti storici profondi vasti, larghi e Marx non è comprensibile se lo tiri fuori per esempio dalla storia del pensiero economico non c'è una categoria del pensiero economico di Marx che non sia già presente in una forma o in un'altra il pensatore precedente allora questo testo a noi serve molto perché? perché qui Marx ancora non è arrivato alla formulazione definitiva sui problemi che affronta ma sono testi proprio del Marx che sta lavorando per arrivare a questa formulazione definitiva allora noi abbiamo la possibilità meglio di vederlo lavorare il che ci interessa anche per un altro aspetto abbastanza frequento almeno lo era fino a pochi anni fa sentire dei compagni che parlavano di dialettica noi siamo dialettici dal punto di vista dialettico eccetera eccetera e l'ultimo dire che non si sapeva nulla di che cosa vuol dire la dialettica ora l'unico modo serio per sapere che cosa diavolo vuol dire dialettica e particolarmente riferimento a Marx è vedere come Marx lavora cioè come Marx la applica la costruisce e la svolge allora dei testi come questo che non hanno la stesura definitiva ma proprio vedono Marx impegnato nel costruire consentono meglio anche di definire i contorni di dialettica nel senso in cui Marx la regia a novembre cominciamo un seminario a lavoro a livello universitario però appunto è a livello universitario io spero che altri compagni come Domenico siano siano direttamente coinvolti perché perché è chiaro che io non mi limito né a tradurre né a esporre riassuntivamente Marx lo interpreto e ovviamente come tutta l'interpretazione può essere ritenuta scorretta da altri e allora è importante che ci sia anche un momento di confronto non semplicemente nella ricostruzione di quello che Marx ha detto a proposito di ma proprio del modo in cui io presento il discorso di Marx che può essere detenuto al punto scorretto o da altri che lo presentere per questa maniera questa sede è la sede di questo seminario non quello universitario io lo sforzo di far venire fuori accanto alla catella